Un patrimonio di quasi 7 milioni di euro è stato confiscato un imprenditore messinese della DIA, Direzione Investigativa Antimafia. L'attività aveva preso il via nel 2017, quando è stata avviata una complessa indagine economico-finanziaria da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina di DIA. Le indagini sono culminate nella proposta di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale formulata dal direttore della DIA, che ha portato prima al sequestro e poi alla confisca del patrimonio accumulato, secondo gli investigatori, in maniera illecita, del valore di circa 6 milioni e 800 mila euro, nei confronti di un noto imprenditore di naso Messina. A fine settembre si è concluso l'iter processuale con sentenza della Corte di Cassazione, che ha previsto la confisca definitiva e l'acquisizione tra i beni dello Stato del citato patrimonio. La citata confisca, oltre ad un consistente patrimonio finanziario ed immobiliare, dislocato nella provincia di Messina tra Capodorlando, Naso, Brolo e Sant'Agata di Militello, comprende anche il 50% di una società quote e compendio aziendale. Tuttora operativa nel settore della macellazione e commercializzazione di pellame, con un volume d'affari dal momento del sequestro di circa 5 milioni di euro, nonché il 20% di un fondo consortire. Anche esso operante nel medesimo settore commerciale, il soggetto colpito dall'odierno provvedimento che nel tempo risulta aver intrattenuto rapporti con esponenti di spicco e sodalizi mafiosi dei tortoriciani già nel 2005, era stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Messina per fatti di usura che hanno riguardato un funzionario di banca. Secondo le indagini, quest'ultimo nel tentativo di ripianare la situazione debitoria creata a carico del proprio istituto di credito, si rivolgeva a diversi soggetti tra i quali anche l'imprenditore messinese, oggetto del provvedimento di confisca per ottenere prestiti rilevatisi poi di natura usuraia.